Ciao YouTube, questo è un video risposta per la mia amica Giasmina. Felice giorno di lingua madre a tutti. La mia lingua madre è italiano, però in Italia ogni persona ha due lingue. La lingua madre è italiano e il dialetto proprio del posto dove sono nati. Quindi sto parlando italiano adesso e però vi canterò una piccola canzone in dialetto. Il mio adedetto è un dialetto napoletano. Grazie a tutti.